La storia della moneta del credito cercando però di arrivare a una conclusione fondamentale in questa sede. Noi abbiamo una maggiore consapevolezza rispetto a decenni fa di come funziona il sistema bancario e di cos'è la moneta, ma dobbiamo stare molto attenti a non proporre delle riforme che invece di migliorare le cose le possano peggiorare. E' su questo che dobbiamo ancora confrontarci e vedremo perché. Allora la faccio a breve. Gli antichi romani non avevano, non conoscevano il debito pubblico. Quando si interrò, si insabbiò il porto di classe, non avevano i soldi per mandare le loro flotte dall'altro lato della costa e l'impero fu perso. Perché non avevano più oro gli antichi romani? Perché semplicemente invece di produrre a casa loro il grano e quant'altro lo andavano a comprare dal Medio Oriente e dall'Africa pagavano oro quindi, quindi l'oro rimase a un certo punto tutto là. 200-150 anni dopo circa la fine dell'impero romano venne fuori la rivoluzione islamica la quale si appropriò di questo oro e lo utilizzò bene. Poi vedremo che lo risputò nel corso poi dei millenni perché per accapparrarsi gli schiavi di cui aveva bisogno per vivere la società islamica risputarono l'oro dei romani e quindi l'Europa ritornò in auge. La seconda cosa che non avevano i romani era il credito come lo conosciamo noi. C'erano i prestiti e c'era il mutum. Il mutum era semplicemente infatti si chiamava mio tuo pro amico senza interessi e quindi io ti prestavo una certa quantità di moneta e tu me la ridavi. Il prestito che non è il credito questo è il punto ovviamente se avete capito tutto quello che è stato anche detto abbastanza bene prima di me era denaro vero che veniva dato a chi ne aveva bisogno. A piccolo tasso di interesse hanno più o meno del 60% è chiaro che queste sono state le due ragioni per cui è crollato l'impero romano. Si sa perché a noi ci hanno imbottito la testa che si è crollato l'impero romano perché è stata abbattuta la schiavitù. Purtroppo fu annunciata duemila anni fa fu annunciato il superamento della schiavitù ma quest'ultima formalmente è stata superata un secolo fa fino al 1900 fino all'800 i governi gli stati commerciavano schiavi a gugu. Andiamo avanti. Ancora oggi in maniera diversa però formalmente c'è la libertà. No no dobbiamo distinguere fra formale e sostanziale. Allora passiamo il medioevo arriviamo ai grandi inventori di tutto che sono stati i templari. Allora cosa è successo? Questi templari si sono resi conto ad un certo punto era inutile far viaggiare l'oro o le monete. Si faceva una lettera tanto loro avevano centinaia migliaia di postazioni in tutta Europa e non solo in Europa quindi chi viaggiava non viaggiava con 10 chili d'oro viaggiava con un biglietto che c'era scritto vale 10 chili d'oro da Roma ad Amsterdam e potevi viaggiare tranquillo senza che ti depredassero l'oro. A un certo punto è questa la questione questi stessi templari si accorsero che non tutti quelli che avevano messo l'oro e poi avevano ottenuto una lettera di cambio e poi lo riprendevano l'oro ma sta lettera di cambio viaggiava a prescindere dall'oro. Risultato l'oro era 10 le lettere di cambio 100. Siccome a un certo punto il re Filippo il Bello in combutta col Vaticano che poi ritrattò questo e quell'altro ma insomma prendiamoci aveva bisogno di soldi prendiamoci tutto l'oro dei templari. I templari furono ammazzati bruciati eccetera eccetera e andarono a prendere l'oro dei templari non c'era semplicemente perché non perché l'avessero portato dalla Rochelle in America che è un fasso storico ma perché loro erano talmente ben organizzati e credibili che se per caso in un posto arrivava uno con una lettera da 10 kg d'oro e non ce l'avevano in pochi minuti mandavano un cavaliere a prenderla nella piazza vicina e la portavano quindi con relativamente poco oro riuscivano a gestire un sistema che è stato l'inizio del nostro credito. Dopodiché hanno preso il boccino i banchieri italiani i quali avevano le monete. Qui stiamo parlando ovviamente di monete che avevano un loro valore intrinseco come quella ai tempi dei romani quindi di oro di argento ovviamente il valore intrinseco cioè il valore dell'oro doveva essere di meno del valore della moneta e la differenza fra l'oro o l'argento contenuto nella moneta e il suo valore facciale la sua credibilità costituiva il cosiddetto signoraggio ma era la vera moneta non era la parte aurea la vera moneta era la parte del signoraggio in cui come dice la parola il signore ci metteva la faccia e se lo stato che la emetteva era credibile chiaramente aveva una possibilità di circolare. Le banche fecero lo stesso con le note di banco. Ciascuna nota di banco riportava un quantitativo di monete che il banchiere doveva dare le monete le doveva dare in cambio della nota di banco. A un certo punto guarda caso cominciarono a girare molte più monete molte più note di banco o banconote ovviamente e di monete non ce ne erano abbastanza. Se il banchiere indovinava di quanto poteva fare circolare la carta rispetto alla richiesta di conversione delle monete aveva un grosso guadagno. Se si sbagliava e tutti andavano a chiedere le monete e le monete non c'erano banca rotta gli rompevano il banco e gli rompevano la testa ma gli altri avevano cominciato a fare quella che chiamiamo la banca moderna. Non è che è cambiato molto da allora tutto sommato. Fino a un certo punto vedremo il 1971 ci doveva essere o le monete che avessero copertura aurea a garanzia dei crediti dei depositi della carta moneta, delle note di banco, delle banconote o direttamente oro o qualcosa del genere. In realtà nel 1971 quando i francesi prima e gli inglesi dopo chiesero agli americani di convertire come in base agli accordi di Bretton Woods del 44 un certo quantitativo di dollari che loro possedevano in oro, Nixon gli rispose ma io mica ce l'ho. E lo stesso gioco, cioè c'è un sottostante dietro la moneta che se è reale, per esempio in genere è stato l'oro fino al 1971, ce la siamo giocata in vari modi, andava tutto bene finché qualcuno non andava a chiederlo o meglio quel qualcuno aveva tutto il diritto di chiedere la conversione se era prevista, ma se tutti andavano a chiedere la conversione non ce n'era per tutti perché la quantità che era messa sottostante a garanzia era molta di meno. Allora il punto fondamentale è che a questo punto entra in gioco lo Stato, lo Stato come fa a stampare la sua moneta che ricordo si chiamano biglietti di Stato che non ha niente a che vedere con le banconote. Quando ancora i saldi internazionali si dovevano fare con l'oro doveva avere una quantità di oro a disposizione pari almeno al suo disavanzo commerciale e comunque doveva pagare gli eserciti e altre cose internazionali in oro ma emetteva molte di più biglietti e questi biglietti che poi diventeranno prerogativa degli istituti di emissione potevano essere convertiti in oro solo per i non residenti. Quindi lo Stato emetteva biglietti, emetteva moneta purché questa moneta non potesse essere cambiata in oro dai residenti, dai cittadini. Questo si chiama moneta a corso legale. A che serviva la moneta a corso legale? A pagare le tasse. Quindi le tasse servivano per dare alla moneta una sua ragione, alla moneta statale una sua ragione, ma intanto questa era la moneta e quando si sgancerà completamente dall'oro dopo il 1971 comincerà a circolare. A quel punto però abbiamo una moneta cosiddetta fiat. Oggi addirittura moneta elettronica, tutto il sistema si basa sul fatto che a Draghi e agli altri banchieri centrali non venga il crampo al dito. Finché non viene il crampo al dito continuano a spingere sul computer e creano mezzi monetari, autorizzano mezzi monetari limitati. Allora, chi è il titolare alla emissione di moneta a corso legale? È lo Stato, perché è quello che chiede le tasse. Ma tutti possono emettere moneta, moneta fiduciaria. Il miracolo economico in Italia non l'abbiamo fatto con le lire, l'abbiamo fatto con le cambiali. Era moneta fiduciaria. E quanto è servito allo sviluppo economico di questo Paese, che è tuttora la settima potenza manifatturiera e che è stata la quarta potenza manifatturiera mondiale, gli assegni postdatati, gli assegni senza copertura dati in garanzia. Tutte queste cose erano moneta fiduciaria. Oggi queste cose si stanno abbattendo per tutta una serie di ragioni. Purtroppo non c'è tempo di approfondire tutti i passaggi. Ma quello che conta è che anche le banche, stiamo dicendo, emettono una moneta che si chiama credito bancario. Non dovrebbe essere moneta a corso legale. Lì c'è un imbroglio chiaramente. Perché se fosse come era all'inizio nelle banche preunitarie e all'inizio dell'Unità d'Italia, che ogni banca faceva le sue biglietti, la sua carta moneta, le sue banconote, non ci sarebbe questa confusione. Oggi invece le banche accreditano, indebitano in euro eccetera e non si può distinguere. Anche perché i nostri stipendi, quasi tutti, le nostre pensioni sono accreditate. Siamo obbligati ad avere un conto corrente per vederci accreditata la pensione, per esempio. Non possiamo effettuare pagamenti al di sopra dei 3.000 euro. Ai tempi di Monti, non a caso, che era molto più banchiere di quest'altro, che se ne dica, 1.000 euro. Allora la banca cosa fa? La banca in realtà, la creazione di moneta è che incredita se stessa e indebita il prenditore. Mentre quando noi emettiamo la nostra moneta fiduciaria, indebitiamo noi stessi e diamo un possibile credito a chi prende la cambiale. Quindi quando torna indietro la cambiale, io che l'ho emessa la devo pagare. La banca fa il contrario, incredita se stessa dal nulla e indebita il prenditore. Negli anni 90 le banche decidono di abbandonare la legislazione degli anni 30 che aveva assicurato un sessantennio di equilibrio e di evitare le crisi bancarie. Quindi viene eliminata la classe Stigal negli Stati Uniti, viene eliminata la legge bancaria appunto del 36 in Italia. Ovviamente che sono i paladini di queste soluzioni, ma in Italia è un certo Mario Draghi, ma negli Stati Uniti è un certo Clinton. E quindi è chiaro che i conti tornano. Quindi si riunifica nella banca universale l'attività creditizia e l'attività finanziaria. Quindi le banche entrano pesantemente nel mercato finanziario, vanno in borsa, emettono obbligazioni, emettono azioni, impongono ai loro clienti di comprarle. Addirittura molte banche di fronte all'imprenditore che chiede un prestito per esempio ai tempi dei tempi di 200 milioni, parliamo degli anni 90, diceva no, io te li do, però tu devi prendere anche 200 milioni delle mie azioni e l'imprenditore che fa, come faccio? Non è un problema, io ti faccio un prestito di 400 milioni, con 200 li metti in garanzia e poi ti si valorizzano perché negli anni 90 la borsa andava su, aumentava del 5%, quindi tutto sommato all'imprenditore andava bene perché li aveva messi lì in garanzia ma erano suoi e prendeva i 200 milioni per fare funzionare l'azienda. A un certo punto nel 2001 si scopre che questo sistema finanziario non poteva più funzionare e comincia la crisi delle borse. Nelle borse operano due tipi di personaggi, ci sono le famiglie finanziarie classiche che sono quelle che guadagnano sempre in guerra, in pace, in genocidio, in carestia, sviluppo economico, aumento dei salari, morti per fame, guerre, genocidi, va tutto bene, guadagnano sempre, la borsa va su e guadagnano, la borsa va giù e hanno le tecniche per guadagnare. Poi ci sono gli altri operatori, tra cui le banche, i quali invece guadagnano solo se le borse vanno su. A quel punto i titoli bancari non erano più buoni e quindi giù coi derivati. Perché il derivato? Perché nel breve termine io prendo il capitale dai nuovi sottoscrittori e ci pago gli interessi dei vecchi sottoscrittori. Quindi entrano in campo i premi Nobel, i grandi economisti, i centri studi, i centri di ricerca, tutti sui loro libri paga, ovviamente, tranne quei pochi che stanno dietro sto tavolo. I quali affermano, a partire dalla tarda primavera del 2001, il prossimo trimestre ci sarà la ripresa. L'ho detto il nome Modigliani, il premio Nobel, l'ha detto il centro di ricerca di Vattelapesca. No, il prossimo semestre ci sarà la ripresa, il prossimo anno ci sarà. Nessuno spiegava niente, io ero negli Stati Uniti in quel periodo e dicevo a sta gente ma scusate perché fatte questa previsione e ci sarà la ripresa? Eh, ci sarà la ripresa. Nessuno ha mai spiegato perché. Di tre mesi in tre mesi, di sei mesi in sei mesi, di anno in anno, in 15 anni, 800 mila miliardi di dollari di derivati che non potevano essere sostenuti e quindi dovevano fare emettere derivati di secondo, di terzo grado, eccetera. Per questi altri titoli tossici parliamo di altri, altri, 3 milioni e 200 mila miliardi di dollari, dati BRI, tu hai dato dei dati molto riduttivi prima. Totale 4 milioni di miliardi di dollari, cioè 54 volte il PIL mondiale. Allora perché ci stracciamo le vesti se il debito pubblico di un paese è una volta il suo PIL e nessuno dice niente che il debito del pianeta è 54 volte il suo PIL. Evidentemente ci stanno prendendo in giro. Ok. Allora, anche questo sistema nel 2008 va in crisi perché praticamente non c'è più liquidità disponibile, le banche non si fidano più fra di loro, fallisce la Lehman Brothers, dovevano fallire tutte e invece no, e invece no. Entrano in campo le banche centrali che da prestatori di ultima istanza diventano prestatori di prima istanza, autorizzano mezzi monetari illimitati senza chiedere alle banche di smetterla, quindi si continuano a fare derivati titoli tossici. Questo capitalismo io l'ho chiamato ultrafinanziario collateralizzato perché si basa sulla massimizzazione nelle emissioni dei titoli, siamo governati da algoritmi matematici che servono per massimizzare le emissioni. Ovviamente per massimizzare meglio le emissioni occorre che i debitori stiano male perché se stanno bene, pagano la cedola, ti restituiscono il capitale, è ovvio che tu ti tieni il titolo. Per farlo girare il debitore deve stare male ed ecco la spending review e i tagli alla spesa pubblica e l'austerity. Non servono per migliorare i conti pubblici, servono per devastarli, per rendere schiavi i paesi e i popoli. Arriviamo al punto, oggi le banche italiane anche nel 2008, anche nel 2007, io nel famoso libro Il Grande Mutuo l'avevo scritto già, che fanno le banche italiane per non far vedere che hanno troppe sofferenze eccetera eccetera, cartolarizzano. Siccome però la crisi c'è ancora, soprattutto nel campo immobiliare, anzi il campo immobiliare è sempre il momento più sensibile dell'intera economia nel bene e nel male, beh, ho saputo oggi, sta arrivando BlackRock, con miliardi e miliardi di dollari compreranno alle banche italiane i mutui deteriorati al 15%, faranno le aste dei vostri immobili al 25%, loro ci guadagneranno abbondantemente e la gente sarà rovinata. Allora la domanda che faccio alla classe politica, e se la classe politica è solo il Movimento 5 Stelle, mi fa piacere di farlo al Movimento 5 Stelle, vogliamo fare qualcosa per affrontare questa situazione? Vogliamo smuovere le grandi potenze finanziarie nazionali per fare un piano sociale che ci consenta di salvare queste case?